ma qua dove non mi faceci c'era guarda non c'è un'altra cosa qua non c'è un'altra cosa guarda c'è un'altra cosa qua ma non c'è un'altra cosa non c'è un'altra cosa quello che ho scaduto che ti ho detto ieri cosa ha fatto? c'è stato? io ho fatto l'altra scansione ci porto 2% un'altra cosa dici ma lui è un'altra cosa alt 30% ma qua 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 chiqu'cossa chiqu'cossa c'è un'altra cosa Sì, non c'è una spazio. Sì, vieno la spazio per ancora la scanzione, guida. Vai. Dieci, nuove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, tre. Via, via, scagno. Sì, vieno la spazio. Sì, vieno la spazio. Sì, vieno la spazio. Sì. Sì, vieno la spazio. Siamo di nuovo qui in Napoli! Aspetta! Puttiamo le scaline! Porca paura! A se, a se! Non so, non so, non so! Scusate le scaline! No! Sì, sì! Guarda, guarda! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Sono io! Vieni qua! Non, non! Mh, pfff, vieni qua! Il mè da, vieni! Non, non, non... Non, 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 non. Sì, 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 sì. è questo perchè? perchè stupac? perchè così non salvano? ma vedi che ci sta arrivando la corsa al tavasso ora! se mi è orata! ma ma! si 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 si! ma lì dentro ci sono stati sbagliati ci sono stati sbagliati ti sono stati sbagliati in giù ma chiatella la manna del deboli eeeh la dalla se andiamo di giù è compatto tutto c'è 300 inizioni e 0 da un pokemon di giù che musica ti deve dare? aspetta forse? no 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 è stato un po' no no sono appena classico adesso il potere di trasformarmi grazie a bambi adesso il genoa dov'è? il genoa dovrebbe trasformare il genoa dovrebbe trasformare il genoa matura dov'è? 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 il genoa possiamo non 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 no, è vero no, ha chiesto no, è vero no, è vero ok, ok da, dai, è giusto è giusto Adesso mi trasportano Come ho quell'arma Ma 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 che è quell'armi Quale è l'arma Quella l'arge Quella l'arge Quella l'arge Adesso siamo messi bellissimi Non cazzo mai di quitta a te Ma è pieno di botte Però non bisogna ralanzare Perché c'è la sepa Ma va No 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 Parca 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 ne mancano pochissimi ancora 18 quindi squadra ok ma non ce l'ho sono proprio fatti a quello che vedete eh dai non ce l'ho già non ce l'ho già ebba ma basta vieni qua 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 dai dai ciao ciao ora andremo va oh mi dia aspetta cosa faccio prima con il carro tu 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 così se l'ho portata al massimo aspetta mi sto mettendo un aeree per te ebba 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 se c'è proprio il suo sogno se c'è proprio il suo sogno ok pare costruiamo un'altra papà i miei amici fai robot fai un sogno fai un sogno o oh 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 fa eh il suo il suo il suo il suo ebba uccidi acqua lo finisci di uccidere acqua lo vado a lasciare moffa e sciane fumatta alla maniera dov'è? dov'è? se 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 adesso il mio casco anzi questo casco lo porto al genelo ragazzi porto a giro vai E' uguale